Un 25 novembre importante in provincia autonoma di Trento, qui a Cagliano, inaugurazione di una nuova panchina in ricordo delle vittime di violenza femminile, una particolare e forte cerimonia che riporta al senso profondo della sicurezza, della libertà, della serenità delle donne all'interno della nostra società, nella nostra collettività, argomenti sulla quali la provincia autonoma di Trento vuole proseguire l'impegno, vuole proseguire nell'andare a trovare nuove forme di sostegno alla libertà anche economica, all'indipendenza economica delle donne all'interno del nostro territorio e andando a insistere nella valorizzazione degli strumenti di difesa e attenzione alle donne e alla loro libertà.